E finisce anche oggi questa puntata di Fanny Moon come passa il tempo quando ci si diverte e questo Passa talmente velocemente che un'ora sembra 5 minuti Giusto al tempo di andare lì, cancella due cose, guarda quello che è successo a Fanny Moon Spero che anche voi vi sarei divertiti come noi, quindi dite no ma già è finito, ne voglio un'altra E quando vuoi, è la prossima settimana, aspettate, ritorniamo Oppure, avete anche una, proprio, non ce la fate aspettare una settimana perché dite no È troppo, è troppo, io ho bisogno di Fanny Moon, c'è solo un modo per saziare la vostra fame Ovvero andare su Youtube e su Facebook e tenervi aggiornati con tutte le novità E andare e rivedere tutti i nostri servizi passati, giusto? Certo, certo, quindi se avete partecipato con noi in trasmissione e volete rivedervi Lo potete fare tramite i nostri canali social, quindi Youtube iscrivetevi al canale Facebook mettete un bel pollicione amidevole Oppure, se volete rivedere qualche servizio che non abbiamo fatto sulla cucina anche Nei nostri vari sponsor, ristoranti Assolutamente sì O volete un consiglio su un buon vino Potete farlo anche cercando vino, ci sono i tag, trovate tutto Tutto, 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 musica, spettacolo, vino, birra, cibo, tutto Oppure se volete consigliarcene uno nuovo, volete invitarci ad un vostro che state organizzando Potete sempre contattarci sui social, ma abbiamo anche un numero di telefono apposito Che lo trovate qua sotto in sua impressione Che è il 333, 333, 8, non c'ho abbastanza d'ida 8, 6, 9, 3 E dovremmo imparare a farlo 8, 6, 9, 3 Mamma mia è faticosa Però giustamente, perché a casa qualche non udente Dice, abbiamo scritto sotto Comunque, non c'è bisogno che fiamo queste figure sbarbine Comunque, avete capito il numero e quello in sua impressione Quindi non esitate a scriverci Se volete rimpiazzarci come conduttori Oppure se appunto semplicemente avete un'attività da promuovere Volete promuovere voi stessi la vostra arte, un vostro evento Noi saremo lì Ad accoglierci E voi lì ad accoglierci Bene, la puntata purtroppo è finita Noi ci rivediamo la prossima settimana Sui canali che state vedendo in questo momento Su questa rete E vorrei fare un ringraziamento speciale all'operatore di quest'oggi Sì, che è un operatore speciale Diciamo che Simone l'abbiamo seppellito Oggi era impegnato Ma vedi ecco, per esempio Ogni tanto qualcuno della troupe No sottoterra Ovvero è brutta Dai Quindi lo accantoniamo Lo accantoniamo Quindi candidatevi Candidatevi Perché abbiamo sempre bisogno di qualcuno entusiasta Esatto E quindi ringraziamo quest'oggi Che abbiamo Fabrizio Dietro le camere Che oggi ha fatto la regia del programma Si muove quindi è vero Non è che è fissa L'abbiamo messo su un trespolo Esatto È vero Ti prendiamo questa camera a mano fermissima Quindi grazie Grazie Fabrizio E ci rivediamo la prossima settimana Magari chissà Cosimone Poi vediamo 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 come si comporta Ciao Ciao Anni Moon Grazie a tutti 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 Grazie a tutti